I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio con il supporto in fase esecutiva dei colleghi di Pordenone hanno rintrecciato e tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa al Tribunale di Palmi una 36enne di nazionalità giorgiana ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia ed abbandono di persona incapace. Il provvedimento scaturisce dall'attività d'indagine svolta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal dottor Emanuele Crescenti volta a documentare i maltrattamenti e le reiterate condotte violente commesse in poco meno di due mesi nei confronti di un'anziana 80enne del posto che veniva assistita per motivi di salute. La 36enne, assunta come collaboratrice domestica con la possibilità di occupare una stanza nell'abitazione e trasferirvi il proprio domicilio, in diverse occasioni avrebbe abbandonato la sera alla donna in casa per far rientro in tarda mattinata, incurante delle condizioni della persona a lei affidata, impossibilitata a muoversi e sprovvista di cibo e acqua. I familiari, che hanno continuato comunque ad occuparsi della donna anziana, si sono accorti del repentino peggioramento delle condizioni di salute e insospettiti hanno avvisato i carabinieri che attraverso i sistemi di videosorveglianza installati all'interno dell'abitazione sono riusciti ad avere un quadro completo di cosa stesse accadendo. Nel corso delle indagini dell'arma sono stati anche registrati episodi di violenza fisica ai danni dell'anziana, che per tutto il periodo ha subito senza alcuna possibilità purtroppo di reagire. Alla luce di quanto emerso, l'abbadante è stata rintracciata e tratta in arresto in provincia di Pordenone, dove nel frattempo era stata assunta regolarmente da un'altra anziana.